Ma mi devi te promette, te non scappà subito appena te dico sta parola, scola. Ho sto a vedere che già te stanno a piare gli infantioli, ma stammi a sentì che tanto è una scola che non c'è sta più. L'hanno chiusa i nazisti e quindi stiamo a parlare dei svariati decenni fa. Ecco, o vedi che te senti già meglio? E no, non è una cosa bella che l'hanno chiusa, è una cosa parecchio brutta, che era una scola una cifra avanti per l'idea che ci avevano. L'idea gli è venuta a uno che si chiamava Walter Gropius e ha aperto sta scola a una città che si chiama Weimar e l'ha chiamata Bauhaus che vuol dire letteralmente casa di costruzione. E poi si sono spostati a Dessau e a fine a Berlino dove mo c'è sta sto Bauhaus Archiv che c'è pure un museo con sacco di cose loro, tipo mobili, oggetti, teiere, lampade, ma pure fotografie, sculture, pitture e un sacco di altra roba. E il concetto di base era di creare non tanto dell'arte tipo decorativa o de concetto, che ne so, quadri, statue, ma anche e soprattutto oggetti che se possono usare, tipo appunto una teiera, una sedia, un lampadario, che oggi noi diciamo design. E non so pezzi unici, ma robe che se possono fan serie perché nel mondo moderno c'è sta l'industria. Ma non è che per questo ste robe non so belle. E insomma, pure il design e l'arte, tutte le tecniche, possono essere buone. Pure si so cose, pensate, per essere fatte a macchina nella fabbrica, perché comunque l'idea è sempre da artista, o designer, chiamalo come te pare, insomma, conta il pensiero. Che nessuna macchina lo può fare, perché le macchine non pensano. Qualcuno ci ha provato e ci provano tuttora a non far pensare a gente, a farla diventare come macchine, che poi spingi in porzante e fanno quello che vogliono loro. E il nazismo, per esempio, che han fatti poi a sta Bauhaus, come te dicevo, l'hanno fatti chiude. Che poi, e robe fatte a macchina, costano pure di meno, che tutti le possono comprare. Tipo che vai a Ikea, che ha a ragazza tua, che è un po' meno rosa di te, e compra da roba semplice ma carina, e a tette se porta presto, più che altro perché poi le aiuti a caricare sta roba a macchina, e a montarla quando è arrivata a casa, ma questo forse in todo motivo, vabbè. E in qualche maniera, a Bauhaus è aperta a strada robe tipo Ikea, appunto, nel senso oggetti e mobili diversi da quelli di una volta, che erano tutti massicci, arzigocolati, pieni di fregne e robe, tipo casa di tua madre, con i centrini, i soprammobili inutili, i pagliacci di ceramica, e credenze da nonna e zuppiere che pare che ha fatte Bernini. Invece, le robe da Bauhaus sono semplici e di forma razionale, che si possono fare in fabbrica facilmente, si possono montare pure da soli, si spostano e non ingombrano dentro casa, e sono pure più facili da sporberare. Eppure i case, quelli da Bauhaus, e pensavano un po' come quelle di oggi, senza tante stanze e corridoi, ma con spazi aperti, tipo salotto con angolo cottura, pedì. E quindi vedi che Gropius e l'altro insegnante, che erano pure artisti famosi, che è inutile che te dico i nomi tanto o ne conosci, so stati di pionieri, che ancora oggi l'idea è loro e copia non tutto il mondo, e capace che pure te, a casa, c'hai una teiera di derivazione Bauhaus, e manco ciò sapevi. Bella G.